Qual è il problema? Stiamo a fare la dimostrazione per il lavoro perché vogliamo lavorare perché stiamo senza lavoro tutti stiamo disoccupati Senti a me io ho un'azienda qui a un chilometro ok? Domani viene alle 10 chiedi di me, sono il tutolare e ti do il lavoro eh? Dicchè io mezza tante persone proprio a me mi vuoi fare fatica? Vogliamo lavorare vogliamo lavorare vogliamo lavorare vogliamo lavorare vogliamo lavorare